Allora, no ragazzi, torniamo seri perché abbiamo questo titolo che recita proprio Moratti attacca la replica di Moggi in diretta. Allora, leggiamo che cosa ha detto Moratti Attacca all'etica di Moggi, no, attacca all'etica Moratti attacca la replica Ma non sa cosa significa all'etica E attacca virgola No, 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 direttore E attacca virgola No, io ho detto Moratti attacca la replica di Moggi Ah, la replica Pure la replica Sì, che tu mi risponderai Sentiamo che cosa ha detto Moratti, ragazzi, vi leggo le parole Allora, eccole qua Eccole, attenzione Se gli scudetti dell'Inter sono 19 o 20 Senza tutto quello che sappiamo Saremmo già a quota 25 scudetti La prima stella arrivata in un momento di grandi vittorie Alzare i trofei era abbastanza un'abitudine Ma ci sono dei cicli E vincere 10 scudetti non è facile Se poi non ci fosse stata la Juventus Ci saremmo arrivati prima Che bravo No, ma lui intendeva un'altra cosa Bisogna essere onesti Vai, sentiamo Quando ha detto avremmo vinto molto più se non c'era calciopolo eccetera Lui intendeva un'altra cosa Voleva dire, ma poi si è sbagliato Voleva dire, se al posto mio ci fosse stato Beppe Marotta Probabilmente avremmo vinto molti più scudetti Perché io non ero capace praticamente a dirigere una società di calcio Questo poteva dire E vi dico anche il perché Quando un presidente Me ne sono appuntato Ma alcuni Perché praticamente Quando un presidente Prende Taribo West Che va Che non giocava titolare E va questo ragazzo Da Lippi a dire Mister Mi ha detto Allah che devo giocare oggi Lippi Ma a me Allah non mi ha detto niente Mi ricordo bene questa frase Ricordo, ricordo Sai che l'abbiamo sentito Seguivo l'inter Non so se era la frase Oddio, oddio Forse l'ha detto oddio Poi Ha preso Gansukur Che faceva il banni in mutande Per una questione di religione Quindi non riusciva neppure a spogliarsi Nello spogliatore Poi ha preso Vampeta Che invece non faceva il bagno per niente Eh forse meglio il primo Poi dopo Poi dopo Se mai ci fosse bisogno Se mai ci fosse bisogno Ha scambiato Sidorfe con Coco Ha scambiato Praticamente Pirlo ha dato al Milan Pirlo con Guglielmo in Pietro Addirittura Pirlo con Guglielmo in Pietro Ha scambiato Carini con Cannavaro Ma un presidente così Che può dire E' meglio che si nasconda Perché Noi potremmo replicare Se fosse stato uno Che capiva di calcio Può darsi pure Che vinceva di più Con tutti i soldi che ha speso Questo è vero Poi dopo Siccome praticamente Stanno parlando Io per esempio L'altro giorno Con Borrelli Ho avuto Praticamente una discussione Perché non mi è piaciuto Perché guardate io Volete che vi dica Il pensiero mio In merito Ecco Il pensiero mio in merito Io sono felice Che abbia vinto l'Inter Perché è la squadra più forte Vabbè Innegabile Perché io ho tantissimi amici Forse tra i tanti amici Sono proprio quelli dell'Inter I miei amici A cominciare da Beppe Marotta A Ausilio E Simone Inzaghi Ma tanti altri Anche politici Che praticamente Quindi io vivo nell'ambiente E siccome Penso che la squadra migliore Deba vincere il campionato In questo momento L'Inter È la squadra migliore Che ha vinto il campionato Quindi niente da dire E sono felice Ho mandato i miei I miei saluti I miei Anche ringraziamenti per il calcio Perché è praticamente Un bene del calcio In questo momento l'Inter Non mi ha dato a chi di dovere A Beppe Marotta A Simone Inzaghi E a Piero Ausilio E poi l'ho mandato anche A qualche amico mio politico Che Ma quello l'accetto Sapete perché? Perché è un burlone Perché Praticamente Non vi faccio il nome Perché tanto Però quello di Moratti Non lo posso accettare Perché è forse Il peggiore presidente Che è capitato nell'Inter Ed è quello che ha profuso più denaro Senza sapere quello che faceva Questo è quello che è Moratti Allora Detto questo Siccome ho sentito Borrelli Ed altri E di Borrelli Io la stima Per esempio Perché non parlava mai Evidentemente Con l'evolversi Di questa situazione Il tifo Praticamente ha preso Il sopravvento Su di lui È riuscito a dire Che lo scudetto del 2006 Vale tre scudetti E vale tre scudetti Come Moratti che dice Dunque non si trova È scritto Che il giudice sportivo Palazzi Ai tempi che praticamente erano di calciopoli Racconta una cosa Che è praticamente l'Inter È la società Che rischia più di tutti Per il comportamento illegale Del suo presidente Facchetti Della Juventus Non ho mai sentito dire niente Allora Qui si ipotizza reato Con la corte di appello di Milano E si dice anche quale Perché per esempio Si racconta che In un'occasione È andato Facchetti In uno spogliato di Bertini Semifinale di Coppa Italia A Cagliari Inter A dire Fa vincere la mia squadra Questo Quindi Questo è più che un reato Io queste cose qui Non le ho mai fatte E in 170 Mila Telefonate Intercettate Intercettate Praticamente L'unica cosa Che hanno potuto tirar fuori Sapete cos'è? Reato A consumazione anticipata Sarebbe come Se uno venisse qui Non trova nessuno Vede 100 euro lì sopra Le prende Ma non le prende Ma il fatto stesso Che le potrebbe prendere È un reato A consumazione anticipata Questo è quello Che hanno trovato Allora Detto questo Praticamente C'è anche un'altra Piccola cosa Che racconta questo qui Ed è una cosa In rilievo E soprattutto Diversa Da quella che stabilisce Napoli E dice Non è Il cosiddetto Inventato Sistema Moggi A far Praticamente Calciopoli Con il calcio È Praticamente Un sistema Di corruttela Generale Del calcio stesso E qui Praticamente L'Inter È una delle principali Perché quando voi Avete praticamente Un campionato E lo rivendicano Con ragione Con torto Secondo loro E per me Lo rivendicano A torto E vi trovate Una sentenza Di questo genere Dove si dice Che hanno commesso Un reato Andando nello spogliatoio Di un arbitro A chiedergli Di far vincere L'Inter Non può Essere rivendicato Questo come Una cosa giusta L'aveva vinto La Juventus E quello doveva essere Perché nessuno Ha mai detto Che Moggi O chi per lui È andato In uno spogliatoio A dire Fammi vincere Una partita Ci pensava la squadra A vincere la partita No ha bisogno Di nessuno Questo praticamente Se poi Qualcuno Dei tifosi interisti Vuole Io lo metto A disposizione 2166 La Corte d'Appello Di Milano Del 2018 Queste sono Le cose Che racconta E che sono Esattamente Diverse Da quelle Che raccontavano A Napoli Dove non hanno letto Le intercettazioni Qui invece Il giudice Miele Che ha letto Le intercettazioni Ha fatto questa Ed è A Milano Attenzione Quindi come si fa Ma stessero zitti A me Loro non si godono Eppure la vittoria Dell'Inter Ma la godessero Perché io sono contento Per loro Sono contento Perché l'Inter Ha meritato Di vincere il campione Ma non rompessero Vogliono mettere In campione Poi dopo costringono Le persone E a me in particolare Perché io Questo foglio qui Ce l'ho da tanto tempo Ma non l'ho mai Fatto vedere a nessuno Ma ti costringono Ti costringono E io non parlo volentieri Di uno che non c'è più Di Facchetti Però ti costringono A parlarne Beh Direttore È una bella replica Quella Moratti Abbiamo fatto questa sera Devo dire Ma è una cosa Ma sì Ma è fin troppo facile È come sparare Su una croce rossa Mi hai citato Mi hai citato Però voglio dire una cosa Così di contorno Sì Eppure Moratti Visto che io facevo il cronista Dell'Inter ai tempi Stimava molto Moggi Sì poi gli ho detto di no Gli ho detto di no Perché Non mi stimava più Perché no Sai perché È certo Perché Moggi Moggi doveva andare all'Inter Era stato preso È vero È vero Ma direttore Ho fatto un contratto Adesso sa che succede Adesso sa che succede Se insistono Faccio vedere pure il contratto Perché io siccome Sono una persona di parola Ho detto che Disse a Moratti Tu adesso Puoi fare di questo contratto Quello che vuoi Io non vengo con te No Quindi lo puoi buttare al cesso Puoi fare tutto quello che vuoi Però attenzione Io lo tengo Non dire mai che non l'hai fatto Perché lo faccio vedere Infatti lui non mi ha detto Sollecitato Aveva tutti che l'hanno fatto No perché questa è una cosa Che non tutti sanno Sì Io la seguivo Perché facevo il cronista Allora seguivo il mercato Se non sbaglio Era la stagione Che poi ci fu il mondiale Di Francia È un buon ricordo Paolo Qual era la stagione Sì 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 E praticamente Avevano firmato il contratto C'era Mazzola Direttore sportivo Poi ci fu una cosa Che fece capire a Luciano Che probabilmente Non c'erano le condizioni Per lavorare all'Inter E mi riferisco Era Moriero Era Moriero Io ho fatto Ho fatto una cosa La so La so No 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 Ma è giusto che la dica tu Però no Io ho fatto una cosa Che praticamente Rifarei anche Perché Sandro Mazzola È un amico mio A parte che ha detto Che avrebbe vinto 28 Scudetti Ma adesso Almeno Morato Ha detto 25 Va archiviata La pratica di Mazzola Perché Voglio dire Era lui Direttore sportivo Dell'Inter Io praticamente Avevo firmato E essere andato in carica L'anno dopo Siccome Mazzola È un amico mio Moratti mi disse A un certo punto Fammi la cortesia Vendimi Moriero Vendimi Moriero Perché non mi serve Nell'Inter Io siccome Con Middlesburg Avevo buoni rapporti Parlai praticamente Di Moriero Ed ero convinto Di fare anche Una cosa buona Perché in Inghilterra Chi corre come Moriero Praticamente Sicuramente Ha successo E In tempo di una settimana Praticamente Riportai in porto La conclusione Però Poi Ebbi Una Lo rifarei Ve lo dico subito Pensai Perché Praticamente Non dare soddisfazione A Mazzola Di aver fatto Questa cosa Tanto a me Non me ne veniva niente Perché mi davano Dei soldi Allora Disse a Sandro Mazzola Di che te l'ha fatto Te questa cosa Mi ha detto Il Presidente Di dargli una mano Io gli ho data Mazzola Telefona al Presidente Nel pomeriggio E gli dice Senza dire Cosa volesse Gli disse Che aveva bisogno Di parlarci E Il Presidente Gli disse Ora sono impegnato Oggi Vieni domani mattina Lì domani mattina Mazzola va lì E gli disse Moratti Se fossi venuto ieri sera Praticamente È passato Il Procuratore Di Moriero Gli ho rifirmato Il contratto Per tre anni Al che Al che io Presi il telefono Presi il telefono Telefonai Ammoratti Gli disse Massimo Ascolta Ho bisogno di parlarti Sono impegnato Vengo io a Milano Presi la macchina Andai a Milano Andai a La Saras E gli dissi Dico Se praticamente Fosse successo Quando io ero in carica Tra me ti succedeva qualcosa Non dico Di particolare Però ci litigavamo Siccome io non sono in carica In questo momento Ti dico che io Sono stato io A concludere Sono stato io A dire a Mazzola Di dire che l'aveva fatto lui Perché ritenevo Che fosse un qualcosa Che andava bene per te E per lui Ma soprattutto Per dare soddisfazione a Mazzola Che è un seguace tuo Che come questo È difficile Che puoi trovarlo Perché Mazzola Veramente pendeva Delle labbra di Moratti E gli dissi Del contratto Dico Vedi adesso c'è un contratto Tu adesso Fai una cosa Fanne quello che vuoi Ma non dire mai Che non l'hai fatto Perché se Dove si rilassero Contratto Scripta manent Verba Volant E questa Praticamente È la storia mia Del mancato passaggio All'Inter Ovviamente Non mi sono fatto degli amici A proposito di Inter Ragazzi Ripartiamo A parte il fatto che Poi ho una frecciatina Che mi farò commentare Da parte di Michele Cioè Da parte di Rosiglio E la faccio commentare A Michele E entriamo così Nel tema Inter Con anche Ciala Noglu Che si toglie Non pochi sassolini Dalle scarpe Parto da Michele Ti recupero appunto Quello che ti stavo dicendo Pocanzi Vale a dire Questa frecciatina Che è stata fatta Da Ausilio Allora Caro Michele Ausilio E oggi sono uscite Queste dichiarazioni Dice Noi Non ci siamo mai Nascosti A differenza Di altri Che si nascondevano Dietro la Qualificazione Champions Piuttosto che Dei buoni Piazzamenti Che è una frecciatina Ad Allegri Ovviamente No Che arriva proprio No Dopo lo Scudetto Dopo questo grande Trionfo Dopo aver battuto Per la stessa volta Di fila Il Milan Nel derby Ma vedi Queste ci possono anche stare Queste sono Praticamente È una frecciatina simpatica È una frecciatina simpatica È una frecciatina simpatica Ma certo Ma mica quelle di Moratti No ma infatti la mia Non era polemica Forse 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 Vittoria Ho dimenticato Ho dimenticato Una cosa importante Sabe Cos'è Ritornando su Moratti È che hanno rovinato Così tante famiglie E io Ho avuto Ho La sensazione E ho avuto anche Il desiderio Di poter difendere Chi è stato rovinato Perché ci sono stati De morti C'è stato Vedi Il dipendente Della Rai Ci sono state Delle persone Che hanno perso Il lavoro E a me Questa cosa qui È dispiaciuta molto Perché erano persone Innocenti E l'hanno dimostrato Praticamente I Proprio Quelli che volevano Colpevolizzare Quando sono riusciti A dire soltanto Reato a consumazione Anticipata Mentre Quello Mentre A Milano Si parlava invece Di reato vero e proprio E si citava Anche la partita Sì Ah tra l'altro A proposito di partita Per dovere di cronaca Vi dobbiamo dire Che dal minuto Cinquantesimo circa La Fiorentina È sotto di nuovo Ragazzi Sta giocando in dieci Quindi se vanno Supplementari Sono favoriti Allora 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 Sempre Atalanta 1 Fiorentina 0 Ricordiamo che In realtà in questo momento Sarebbero 1 a 1 E che all'Atalanta È stato Annullato il gol Di Scamacca Giusto Per dovere di cronaca Faccio rispondere Michele Michele su E di Chierceghi All'uso Per l'Atalanta Ragazzi L'abbiamo chiamata Fiorentina Fiorentina L'abbiamo chiamata La Fiorentina Vedi Comunque Che in questo momento Magari facciano Delle dichiarazioni Un po' Piccantine Mi associo Ai complimenti All'Inter Perché credo Che quest'anno Abbia fatto Un'ottima annata Quindi vanno fatti I complimenti A tutti Alla dirigenza All'allenatore I giocatori I giocatori Sono stati bravi I colori Certo Certo che tutto Sarebbe finito bene Sarebbe arrivato Il mio riscatto E vincere lo scudetto Durante il derby È stata la mia soddisfazione Più grande Era tutto scritto Dio voleva così Perché lui sa Che io Non ho meritato Quello che mi hanno fatto Zitto Senza dire mai Una parola Ho lavorato E pensato Solo A fare bene Questa vittoria Mi ripaga di tutto Non si toglie Non pochi sassolini Credo Adesso Io non so Cosa sia successo Direttamente con lui E la sua famiglia Però se Se gli ha creato Delle difficoltà Che ci può anche stare Perché comunque È passato da una parte All'altra Di Milano Dove comunque Milan-Inter Sono due squadre rivali Però mi sembra Che è successo Già parecchie volte L'importante è Star dentro Nei termini Io non so Ripeto Quello che è successo Lui e la sua famiglia Però io vado su Sul ragazzo Comunque quando è arrivato All'Inter Lui è migliorato Anno dopo anno Cioè ha fatto un cambiamento Vuoi perché Chi gli ha trovato Quel ruolo Però io credo Che poi alla fine Come ha detto Luciano Prima I protagonisti Sono i giocatori Perché tu puoi cambiare Il ruolo Ma se non sei Pirlo E fai quello che poi Ha fatto Pirlo In quel ruolo In questo caso C'è la Noglu Perciò Posso fargli solo Dei complimenti Perché Io non me ne sarei mai aspettato Sai dove mi ha fatto impressione? A presidere delle qualità Perché le qualità Le vediamo tutti In fase di non possesso Lui è il primo Che va a attaccare L'avversario E questa secondo me È stata una delle forze Che ha avuto l'Inter Quest'anno Fase di non possesso L'Inter Andava subito E questa qui È una cosa importantissima Perché è la fase E questa Luciano Gliel'abbia data All'allenatore Esatto È la fase di non possesso Che permette alle squadre Di ritornare in possesso Se c'è gente di carattere In piccolo Mi dava l'impressione Lascia stare i giocatori Il Barcellona Il Barcellona Io me lo ricordo Quei grande Barcellona Di Guardiola Nel momento in cui Perdeva palla Perché tutti dicevano Ma come farà a giocare Quest'anno Questo Barcellona Che sono tutti bravi Tecnicamente No Barcellona Era bravo Andare a aggredire Quando perdeva palla E la riconquistava subito Era difficile Che la perdeva Perché la torna È la storia In questo momento Del Bologna La maglia Ovviamente pesa meno I giocatori Hanno più qualità Esatto Ma è la storia In piccolo Del Bologna Perché il Bologna Ha una maglia Che pesa poco Tutto quello Che fanno di più È tutto guadagnato Quindi se arrivano Quarti Praticamente Hanno vinto Se arrivano terzi Hanno vinto di più Eccetera Però ecco È il modo In cui Si porta Interpreti la partita No ma a me Ha fatto impressione Parlando sempre di Celanoglu In base alla tua domanda Vittoria Non me lo sarei mai aspettato Te lo giuro Che Allora si sapeva Anche a Miena Che aveva un calcio Pazzesco Tecnicamente bravo Comunque Noi sappiamo Che in questo momento Non solo da quest'anno Ma un po' di anni A questa parte Se hai un giocatore In squadra Che calcia bene Le punizioni I calci d'angolo Hai dei vantaggi enormi Perciò Stando su Celanoglu Ah scusami Guardiamo il calcio d'angolo Ieri della Lazio No ma questa Questa è la realtà Di No guardiamo No guardiamo Alessandro Lascia stare Vabbè Alessandro L'errore anche L'Alessandro Ma perché non mettiamo Rugani Direttore Ditto fammi finire Su Celanoglu Faccio il complimento A Celanoglu Però sicuramente Chi gli ha dato Quest'impostazione È l'allenatore E però vedi Giacomo Automaticamente Lui Da grande campione Qual è L'ha interpretato La stragrande Però vedi Giacomo Che tu dai dei meriti Agli allenatori Quindi evidentemente No perché l'ha messo lì Paolo Eh ma no ma infatti Ma infatti Ma perché il calcio Di Inzaghe è propositivo Cioè comunque Ma no ma c'è Paolo c'è dei giocatori Che hanno la qualità Superiore alla media Faceva la mezzala Sì Allora io ti sto dicendo Io ti sto dicendo Che se stiamo sull'Inter Inzaghe è stato Non bravo Di più Però se io Sposto una Vedi prima Parlavamo di Locatelli Locatelli tu mi hai risposto È una mezzala È una mezzala Eh ho capito Se non hai qualità Grazie Giacomo Fermati un attimo Allora Il problema dell'Inter È un po' particolare Se davano retta alla gente Inzaghe non c'era più Quando è stato dato via Quando è stato dato via Siccome io questa trattativa La conosco Perché Conosco il papà Lilian Turan Quindi Sapevo già che l'anno prima Turan doveva venire all'Inter Allora Quando è stato Venduto Praticamente È stato dato via Zeko E Lukaku Sembrava che l'Inter Fosse finita È arrivato Turan E ha dimostrato Praticamente chi era Poi dopo Quando vai a parlare Praticamente Dell'Inter È lì Paolo È una cosa Tutta diversa Perché tu hai Uno che sta davanti Alla difesa Barella Che ferma l'avversario E ripropone E ripropone Poi c'hai Miri E Mkhitaryan Che praticamente Tra le linee Ti saltano È troppo più completa Parlare dell'Inter Di ora E io Vi dico per questo Sono contento che abbia vinto La squadra migliore E che a capo di questa squadra migliore Ci sia Beppe Marotta E Osilio Perché praticamente Sono due che hanno lavorato Tra mille difficoltà Ve le posso dire io Tra mille difficoltà Anche di presidenza Eccetera Che conoscete tutti E sono riusciti a vincere Un campionato alla grande E meritatamente La società Come è combinata In questi ultimi anni Che ha delle difficoltà E parla Moratti Che in un anno Ha cambiato 5 allenatori In 12 Noi siamo stati 12 anni In carica Lui Praticamente Nei 12 anni Abbiamo cambiato 3 allenatori Lui 25 Luciano poi tu sai Perfettamente Che nel momento In cui cambi Ti faccio un esempio Onana E viene Sommer Cioè comunque Tutti noi Compreso sottoscritto Dici sì Sommer Però ultimamente Faceva comunque La riserva Ragazzi Sommer È stato un altro Che quest'anno Ha fatto fare dei punti pesanti All'Inter Cioè è arrivato un giocatore Che non ha fatto Rimpiangere Onana Nonostante Onana Avesse fatto bene Anzi meglio Perciò ti dico Questo Michele Se mi posso permettere Complimenti All'allenatore Al suo staff Ma alla società Comunque Che c'hai dietro Che ti ha dato Una mano enorme Poi non solo Onana Si diceva Sei indebolita Perché ha perso Brozovic Sei indebolita No quella no Perché è entrato subito Cianaloglu Però col seno di poi Ma Cianaloglu Cianaloglu Non era mica In quel momento È diventato il sostituto Che ha migliorato anche Ma voi vi ricordate Quando Brozovic Si è fatto male E ha messo Cianaloglu A tutti Perché quando si vince Si vince Perché c'è la società forte Però perché sei d'accordo con me Se non hai un campione Tu gli cambia ruolo Non mi toglie nessuno Da testa Che quest'anno L'Inter non ha avuto avversari C'è anche da dire questo È stata bravissima Gli vanno fatti i complimenti Ma non ha avuto avversari Sì Ma non ha avuto avversari Perché è più bravo Perché anche l'anno scorso Diceva del Napoli lo stesso Però Michele L'anno scorso Diceva del Napoli Io parlo del campionato italiano Non ha avuto avversari Perché è la migliore È la migliore È la migliore di tutti Vedete Quando noi si parla Del centrocampo Si dà Praticamente Una menzione al centrocampo Che è poi il motore Della squadra L'esempio tipico Della portata Del centrocampo Ce l'ha dal Mila Il Mila È senza interditori Certo Laddove praticamente C'è Barella E Rompe e propone Qui praticamente Sono tutte mezze punte Tutti giocatorini Discreti Che però Quando gli scappa la palla Non la vanno più a cercare In più L'unico è Benazèr Che è un centrocampista Vero Benazèr È rientrato da poco Perché era infortunato Lì praticamente Contonali L'anno scorso Scusa sul discorso Di Michele Che faceva Io sono d'accordo Fino a un certo punto Che l'Inter non aveva i rivali Quest'anno I blocchi di partenza C'era il Napoli davanti Eh ho capito Cioè tutti parlavano Del Napoli Ragazzi La Juventus Sorbasso contro sorbasso Sì A dicembre A dicembre A dicembre A dicembre A dicembre Perché Perché il Napoli È andato male Per diversi motivi E sappiamo Il Milan Il Milan Vittoria Il Milan Ha speso 120 milioni Quest'anno per fare La campagna acquisti Ragazzi Ha speso 120 milioni Però Ha avuto delle problematiche Di un altro tipo Allora Non è L'Inter è stata Come ha detto Luciano Come il Napoli L'anno scorso Dietro le altre Hanno avuto problemi Ma non perché Non avevano la squadra Perché se li sono creati da soli Sì sì Chiaro Voglio sentire ancora una volta Elena su Cialanoglu Anche questo sfogo Del giocatore Visto che comunque Quando Aveva cambiato Fazione Aveva cambiato appunto Squadra Effettivamente Non erano mancati Insulti Poi Forse I tifosi Vanno anche compresi C'è modo e modo Però di dire le cose C'è modo e modo Però credo che i giocatori Quando cambiano squadra Vanno Dall'altra squadra Della città Oppure Ricordo Quadrado Che dalla Juventus È passato all'Inter E quando L'Inter è venuto a giocare A Torino Si è preso tanti Quegli insulti I tifosi Lo debbano mettere in conto Ok Perché Il tifo è una cosa irrazionale Non è una giustificazione Questa Per quello che può essere stato detto O fatto Contro i giocatori Che hanno cambiato la maglia Ma Posso comprenderlo Ok Allora No Avevo una curiosità Per Luciano Visto che prima parlava Ovviamente è un altro bel giocatore Solo il ruolo è il centrocampista E potrebbe essere anche un giocatore Che farebbe comoda la Juventus Riuscirebbero direttore Abbiamo qualche Cosa costa? Abbiamo qualche indizio In quarantello In quarantello Ma la Juve non può spendere Quaranta milioni il fratello? Che per un Turam è molto quotato Abbiamo Abbiamo Ebbè È giovane Io non uso Te lo dico È più giovane È più giovane di questo Molto più giovane Siamo già 40 milioni Sì costa tanto A proposito di Turam ragazzi C'è la premia L'avete vista la diretta Instagram Dei festeggiamenti? Perché Turam è stato uno dei protagonisti Ma vi spiego tutto Dopo la pubblicità Dovete rimanere con noi Vi dico solo Occhiali a specchio Ce lo devi dire prima Andiamo via No 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 Andiamo via Briggi Briggi i nostri amici da casa Allora ragazzi Il siparietto simpatico A cui stavo facendo riferimento Prima di andare in pubblicità Riguarda proprio I festeggiamenti Che ci sono stati anche sui social Perché Dovete sapere Che hanno fatto una diretta Instagram C'ha la Noglu Turam E attenzione ragazzi Il presidente Zhang C'è si è aggiunta la diretta Instagram E Lautaro Martinez E appunto adesso Ci sono stati appunto Di siparietti Tra cui appunto I giocatori hanno chiesto Un premio extra Al loro presidente Parlando appunto di un orologio Dicendo ma Presidente Noi siamo costati Meno di due pizze E si perché Sono stati tutti presi Parametro zero Esatto Esatto Prima C'è la Noglu E poi Turam Esatto In effetti Ci ha visto l'unico E infatti poi Steven Zhang risponde Ora però Cercate di fare in modo Che Di Marco Non si colleghi Altrimenti Chissà che cosa Mi può andare a chiedere Quindi è stata anche una cosa Simpatica Vedere no Il presidente Che si connette In una diretta social Dei giocatori Ed è stato un po' Lì no E poi Si verrete Andate avanti Voi mi citavate Prima Marco Sturam Il quale si è presentato In questa diretta Di staranno con degli occhiali giganti A specchio Dicendo poi Adesso credo che giocherò Con questi occhiali Da sole Addosso Fino a fine campionato Perché i ragazzi Gli dicevano Ma soprattutto L'altro diceva Ma togliti questi occhiali No? Quindi hanno Enfatizzato Tutto questo per dire cosa Un bel clima Ilare Di simpatia Di festeggiamenti Che vedremo Caro Jack Ferri Domenica Perché c'è il pullman Che da San Siro Parato Due pullman E questo è pure giusto Dalle ore 16 Alle presunte 21 Io però Vorrei Io vorrei Che si godessero Queste feste Perché se le meritano L'ultimo E non si appellassero Praticamente Perché se vanno Ad appellarsi A quelle cose lì E' vero Non hanno 20 Si rovina il clima Non hanno 20 titoli Ne hanno 19 E se continuavano Moratti Ritornavano indietro Oppure Sì sì No Non sono d'accordo Su questa cosa Mi dissocio Direttore Colta così In fallo laterale Ma a te che sembra Così strano Che si stanno divertendo I ragazzi No però No Si manca No Io spero Vittoria E' un artist Per dire I festeggiamenti Il pullman Dalle 16 Alle 21 Fino in piazza Duomo Ma secondo me Sì forse Di più Vittoria 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 Che ride Ma io sono felice Di essere con voi Ragazzi Posso dirti Una roba Dopietta Secondo me Speriamo che giochino Con gli occhiali Speriamo che Siano già contenti E siano già concentrati Sul pullman Che va a fare il giro Così almeno Noi riusciamo Forse A fare tre punti E arriviamo E arriviamo In una bella posizione Zona Europa Zona Europa Zona Europa Speriamo Ma è lontana Per il toro No per entrare In una coppa No Eh beh Zona conference Insomma Guarda la classifica Per la conference Parlo eh Eh no no E lo so però E deve arrivare Settimo Ottavo Guarda la classifica Ottavo o settimo Beh Attenzione però Grazie alla nostra regia Che prontamente E ha sei punti Esatto E beh E beh In più Manca cinque partite Io vorrei fare chiarezza Anche su questa cosa ragazzi Perché Se ci fosse La Roma All'Atalanta Sei Forse sei Esatto Esatto A vincere L'Europa Abbiamo un posto Champions in più Perché hanno detto Che si libera Vero Quindi La domanda è Ma funziona anche E qua Chiedo venia Perché non lo so So che funziona Per la Champions Ma la domanda è Funziona anche per l'Europa Perché non l'hanno ancora Non l'hanno ancora detto In maniera ufficiale Io mi astengo Perché ho detto di tutto Eh anch'io Ho detto farei Di stanti Ci sono tutti Dei riferimenti Che fanno le supposizioni Qualora che la Roma Dovesse vincere Se non si capisce ancora No Se la Roma vince L'Europa League C'è un posto in più In Champions Sì Però dopo Sotto come diceva Vittoria Funziona per la Champions No Perché la Roma Vincendo l'Europa League Va in Champions Esatto E quindi libera Esatto Ma Dovesse funzionare Io immagino Vedo la Fiorentina Per dirti No La classifica Secondo me Sono delle ipotesi Boh Non lo so Io Mi fa morire che adesso Di volta che abbiamo Conoscenza Stagnotto A fare la richiesta Accettatemela Diamo 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 Ma sai che Vittoria Fa anche la pubblicità Per Controvita Sì Con Controvita Med Ma fa mille Che roba è Integratore a base di collagene Direttore Ma lei che sa tutto No no Ma io ho visto uno di macchine Di auto Ah sì Ah sì Eh sì Ehi faccio un programma Faccio tanti programmi Nella mia vita Il calcio Le auto Il poker Volevo comprare Quella macchina Non la compro più No No Non mi dica così Direttore Su via Che macchina è Così non la compro niente io Ma vi siete messi d'accordo Voi È bravina È bravina È bravina Grazie 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 Allora ragazzi Vedi dico bravina No brava No ma infatti io Umile Testa bassa E lavorare Brava Così che facciamo Allora ragazzi Vorrei Continuare a parlare Di Inter Con Marotta Perché Marotta Oggi ha fatto Riparto da Jack Riparto da Michele Ha fatto delle dichiarazioni Interessanti E noi siamo sempre sul pezzo Oggi Paolo Marcello Me la segnalate Riguardano I rinnovi E le cessioni E il mercato E quindi su questo poi ci darà anche un ausilio Paolo Bargigia Non ausilio No Un ausilio ausilio Sì un aiuto proprio Allora Sui rinnovi di Lautaro E Barella Dice Non parliamo di rinnovo Ma prolungamento Non ci sono ansie Perché nessuno in scadenza Parleremo insieme Da ausilio E bacin Per creare uno zoccolo duro Dei giocatori Che hanno un senso di appartenenza Quindi ancora una volta Come sia importante No Il Allora fermati un attimo Tu hai citato Una cosa importantissima Importantissima Che non c'era prima Prima c'era il senso di appartenenza Il senso della maglia Da difendere Adesso con tutto questo ingresso Di questi stranieri Che praticamente Sono dieci E se non sono dieci Sono undici In ogni squadra È un senso diverso Non c'è più Il senso dell'appartenenza Eccetera È una dipendenza Sono dei dipendenti Che vanno in campo Finita la partita Se ne vanno Se perdono Non è che piangono Invece c'era gente Che praticamente Poteva anche piangere In tempi passati Ai tempi di pari Ma no Ma ai tempi Ai tempi in cui giocavano Molti italiani E non troppi stranieri Questa è la verità E gli stranieri Quando venivano in Italia Erano quelli di prima categoria Adesso sono quelli di terza Che poi diventano in seconda E vanno in premier Questo è il dramma dell'Italia E siccome la nazionale È quella che porta Il nome del calcio italiano in giro E fa le figure che fa Però non a caso L'Inter è una delle squadre Che ha forse più italiani titolari Non è un caso E poi E' che lì troviamo anche nazionali Che diceva Luciano Questa è l'appartenenza Per esempio Non a caso Se abbiamo visto tutti Lo scudetto Con le doppie stelle Gli hanno dato due giocatori Che sono usciti Dal settore giovanile Perché è lo stesso di Marco Per esempio È lì da quando aveva sette anni Bastoni Ide Perciò comunque Questa cosa che stavate dicendo È una cosa importante Ma Giacomo Perché c'è Marotta Che è un grande dirigente E sa come si costruisce una squadra Una squadra Lo zoccolo duro Secondo me deve essere italiana Ma guardate Io vi dico Io vi dico Io vi dico una cosa Siccome Anche io Ho mandato in giro Di giocatori a farsi Eccetera Io per esempio Ho visto il ragazzino Che gioca nel Monza Quello diventa sicuramente Un buon giocatore Colpani Comprego Colpani No no Colpani Quello più giovane Adesso mi sfugge il nome Mi sfugge il nome E come Ah Valentin Carboni Carboni Beh è dell'Inter È dell'Inter E questo qui sicuramente Sono quei giocatori Che magari nel momento Servono per mandarli a maturare Poi quando sono maturi Praticamente E questo E questo ha delle qualità enormi Ma l'Inter ha anche Secondo me Questa ha tanta fortuna Fabian del Bologna Fabian del Bologna Fabian è molto forte Fabian del Bologna Io me lo ricordo Della regina Già a regio No no Fabian del Bologna Ma questo cosa denota Luciano ti posso chiedere una cosa Questo denota Che hanno saputo lavorare Ed è praticamente Un bene della nazionale Questo qua Ma questo E questo È un bene per la nazionale Un bene per la squadra di club Io guardate Perché lo sappiamo tutti Che comunque A parte quello che diceva Michele Marotta Ausilio E via dicendo Hanno fatto un lavoro strepitoso Poi vai sulla squadra Dove la gestisce L'allenatore Che è in zaghi Ma dentro tu hai giocatori Dove Oggi sentivo dire Dall'inizio Sembrano fratelli Più che colleghi Quando li vedi Cioè come esultano Come magari Quando perdono Sono un po' Demotivati Cioè è stata Costruita una squadra Io non so Penso che andrà avanti Anche per il futuro E spero per l'Inter Ma sai Però quest'anno Ho dato l'impressione Di una squadra Non so Luciano Più tenace Una famiglia Cioè sembrava uno Pronto a proteggere l'altro Quando era in difficoltà E credo che questo Nel calcio Sia una cosa importante No è determinante Ti posso chiedere una cosa Tu da grande dirigente Quale sei stato Vorrei chiederti questo Perché il Barcellona Il Manchester City Mettono in campo Giocatori di 17 anni E le squadre italiane I dirigenti italiani Invece quando hanno Un giocatore forte Lo fanno crescere Attraverso altri campionati Tipo la B È una mentalità diversa È una mentalità diversa Ma dipende Dipende anche Dalle società Attenzione Io quando Vi ricorderete Quando l'Italia Ha vinto Il campionato del mondo In Germania 2006 C'erano sei giocatori Della Juventus Nella nazionale E poi erano Quattro Della Francia Quindi era come se fosse Juventus A Juventus B A Villar per Rosa Non è un caso No assolutamente Non è un caso Che poi Infatti sapete io Cosa ho detto A Beppe Marotta Ho detto Io guarda È tanto che Ti faccio complimenti E non vorrei Essere ripetitivo Ma devo dirti Che hai costruito Assieme ai tuoi collaboratori Un Inter Veramente importante Per ora E per il futuro E ho finito Bravo Questa è quella Che ho detto Vorrei dire una cosa Vorrei dire una cosa L'Inter Su Fabian Ha fatto un progetto Abbastanza lungimirante Perché L'ha venduta al Bologna Però ha messo una recompra A 12 milioni A 12 milioni Ma nel 2025 Cioè non quest'anno Così lo trovai già Completamente fatto E' una cosa intelligente E invece credo Che Valentin Carboni Certo cosa Vabbè Facendo mercato Mi era anche un po' Confrontato Non credo Resterà l'Inter Perché col modulo In cui gioca Simonin Zaghi Sarebbe troppo sacrificato Quello è un altro discorso E credo che lo ridiano In prestito Ma il ragazzo Vorrebbe qualcosa Non per sminuire il Monza Ma sembra che voglia Qualcosa in più Ecco Voglia fare uno step in più Però guarda Luciano Che Se vai a vedere Lui ha la stessa età Di Il Diz Ma non è che ha fatto Tantissime partite Nel Monza Vedi le giocate Ma se dovessi Se dovessi guardare Praticamente Adesso Paragoni E' anche brutto farli Questo mi sembra più maturo Tu dici Questa delle giocate Che sono E' proprio fantasia Che è innata Attenzione Lui ti gira la palla Come vuole Lui vede il compagno libero Lui sa tirare in porta E sono tutti questi qui Il Diz E' più attaccante Lui è più fantasista E' più fantasista E' tutto un altro giocatore Però ovviamente Dipende dall'allenatore Come vede la squadra sua E' certo che Nell'Inter di ora Troverebbe difficoltà E su questo non c'è dubbio Sì no Non ha spazio Allora Paolo Ti do l'assist Di Marotta Sulle cessioni E sul mercato Perché sulle cessioni Dice Nel mondo del calcio Penso che non si debba Mai parlare Di incedibilità Le società Anderemo sempre all'obiettivo Sostenibilità Inzaghi resterà E credo che appunto A fine stagione Si siederanno Per prolungargli il contratto Lui ancora un anno Fino al 2025 C'è quest'ipotesi Che gli rinnovino Due anni Questa volta Un uno più uno Ecco Non un rinnovo Di un solo anno Per quanto riguarda Lautaro Ha confermato Comunque che si arriverà Al rinnovo In questa stagione Secondo me Il punto interrogativo Dove Dove non si arriverà Alla fine di questa stagione Al rinnovo Ma se resta Ne parleranno Nella prossima stagione È Barella Barella ha il contratto Fino al 2026 Però è uno di quelli Che deve rinnovare Anche lui Come calendarizzazione No Però Barella Ha tanto mercato Una cessione Il prossimo anno L'Inter Vuoi non vuoi La farà È di un nome grande Non ci metto La mano sul fuoco Però Però se vai a vedere Quali sono i giocatori Che hanno tanto mercato Sui quali puoi monetizzare Tanto Lo puoi fare con Barella Lo puoi fare Paradossalmente Con Turam Che ha preso Parametro zero In Francia Scrivono di un interessamento Del Paris Saint Germain Però Turam Resta lì Resta Io penso che l'Inter Comunque Pure in una situazione economica Un po' tormentata Con gli introiti Della Champions Del Mondiale Per Club Eccetera Eccetera Abbia La forza Forse di Non cedere nessuno Però Barella Secondo me è una cosa Da seguire Hanno No 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 Lo dico Hanno già preso Taremi e Zenischi A parametro zero Si capisce che vogliono Prendere un altro attaccante Quindi cambiare No Le due riserve Arnautovic E Sanchez Però io non credo tanto A Gudmundson O quattro anni Ha scalato proprio Il debito che c'era Adesso lasciamo stare Quello di Zang E non parliamo Io parlo del Societario Io parlo del bilancio Del bilancio Si Allora Aveva 200 Sono diventati 150 Poi sono diventati 90 Ora sono diventati 65 Col Mondiale di Club E l'Inter va a pari Si si E ora poi chiaramente Poi c'è anche dei ragazzi Interessanti in giro Come dicevamo prima Che possono mettere sul mercato Con Michele Certo